Ragazzi, come siete onorati? A voi l'onore? Tutto è se? Tutto è se, dai ragazzi, per una scuola... Dei proprietari, da? No, l'appoggiano su. L'appoggiano su? Mettisci la chimi, dai, diventate. Ragazzi, mettetevi dietro, direi chi appoggia, o quella. Ma c'è simbolicamente? Coramere. Ma c'è la forma? Ma non è successa. Dove te ne vai? Volevo fare il cittadino. Sindaco Natale, dopo il totem della pace dedicato al migrante ignoto, quello di Casal di Principe, titolato a Don Peppe Diana e dedicato alle vittime di tutte le mani. Qual è il valore simbolico del totem della pace di Casal? Il valore simbolico è quello del cambiamento, della risurrezione e della rinascita, che è basato sulle fontamente che sono le nostre vittime di mafia e di camurra. Quello sono la memoria, sono le fontamente e poi l'azione di questi ragazzi e di questi giovani che oggi sono venuti qui a fare quest'opera di formazione, sono invece la colonna portante di questa nostra rinascita. Il totem simbolizza un po' tutto questo.